Per la prima volta la Lega ha fatto un programma elettorale importante per il settore del turismo perché oggi come oggi il settore del turismo in Italia rappresenta l'11,8% del PIL, è uno di quei settori che la politica ha sempre ritenuto marginali e di conseguenza pensiamo che la ripartenza del nostro paese debba passare da una di quelle attività e da quei settori di cui il nostro paese ne deve andare fiero. Sappiamo che i dati sul turismo straniero in Italia sono dati ahimè in calo negli ultimi anni perché l'attrattività del nostro paese risulta sempre in calo, nonostante siamo il paese che ha il maggior numero di siti UNESCO a livello mondiale. La Lega quindi parte da una proposta importante, quindi cercando di rilanciare il turismo sotto il punto di vista fiscale, quindi defiscalizzando alcune operazioni come per esempio l'acquisto di pacchetti turistici in Italia in agenzie italiane, come per esempio il rilancio e la costituzione di un ministero del turismo perché non si può non dare dignità a questo settore, l'abolizione della tassa di soggiorno che la riteniamo una tassa inutile in quanto non essendo una tassa di scopo serve solamente a ripianare i debiti dei comuni italiani e soprattutto un rilancio della formazione del turismo in ambito scolastico creando degli istituti ad hoc che servono appunto per creare quel personale nei nostri alberghi, nelle nostre agenzie di viaggio, nei nostri tour operator che abbiano quelle competenze che servono al nostro settore.